Benvenuti in un nuovo video. Ragazzi cosa ci sta combinando DJI? Oggi sono andato sul loro sito come faccio quotidianamente e ho trovato un bel countdown. 6 giorni, 16 ore, 27 minuti e 0 secondi. Perciò cosa ci presenterà DJI di nuovo? Beh da questa foto si capisce che va sott'acqua, sicuramente DJI farà qualcosa con qualche sensore per cui riprenderà sott'acqua e non sarà un sommergibile radiocomandato insomma in quanto i sommergibili radiocomandati sono una tecnologia ancora un po' indietro. Perché questo? Perché le onde radio sotto l'acqua si disperdono per cui non possiamo radiocomandarli. Per cui cosa sarà? Non ho pensato a nient'altro, ho detto andiamo subito a curiosare sul profilo Twitter di OsitaLV. E chi è OsitaLV? È colui che azzecca tutte le uscite, tutti i prodotti di DJI. Ormai sono abituato a prenderlo come punto di riferimento. Solitamente con l'Osmo Pocket c'è azzeccato, col DJI Mavic 2 c'è azzeccato, addirittura recita la foto qualche settimana prima. Per cui sicuramente o è uno che lavora dentro o è la stessa DJI che per marketing, per far parlare di sé, ha questo profilo un po' fasullo insomma. Intendetela come volete ma è super super affidabile. E cosa ha postato OsitaLV? Ha postato queste due foto. La prima come possiamo vedere ci parla di un action cam ed è lei, perciò è una nuova action cam di DJI. Come possiamo vedere ha uno schermo abbastanza grosso nella parte anteriore. E come possiamo andare a vedere nella prossima immagine, eccola qua che ce la fa raffigurare in tutte le prospettive. E anche un grande schermo nella parte posteriore, sicuramente sarà touch. E cosa possiamo dedurre? Io spero che sia un action cam che senza case vada sott'acqua, un po' come quello di GoPro che è la grande rivoluzione di GoPro che ancora nessuna action cam è riuscita ad ottenere. Forse qualcosa Sony ma non è un granché. Altro cosa possiamo dedurre? Si potrà dedurre che è molto simile a GoPro ma secondo me DJI sarà un passo avanti. Come sempre è stato nella storia DJI. Io vi ricordo che quando è uscito il Karma drone che doveva essere il drone rivoluzionario in quanto pieghevole e rivoluzionario da portare in giro. Beh dopo una settimana DJI ha presentato il Mavic Pro che era la metà più piccolo del Karma e per cui GoPro è andata abbastanza giù con i titoli. Poi il drone Karma ha avuto dei problemi e così via. Non so se ve lo ricordate. E qua cosa farà DJI? DJI si vuole imporre nel mercato. L'ha già fatto con il DJI Osmo Pocket che è la più piccola videocamera stabilizzata su tre assi. Se vi interessa sono riuscito anche a reperire un coupon del 20%. Pensate un po' solo per voi. L'ho chiesto e l'ho richiesto. Ve lo state qua sotto da Banggood. E niente. Ed è ancora eccezionale. Sicuramente come ho descritto nei miei tutorial, come abbiamo visto nei video, confronto, paragone. L'Osmo Pocket è la telecamera perfetta da portarsi in giro. Però non è una videocamera così action. In quanto se l'andassimo a portare in bici o mentre sciamo. Beh, il gimbal rimarrà un po' scosso. Le riprese non verranno così ottimali. E soprattutto il campo visivo rimane un po' stretto. Quindi non farà vedere una grande prospettiva di ciò che stiamo facendo. Mentre per quanto riguarda viaggi di vacanze, piccoli trailer, possiamo fare qualche film, mini film. Beh, questa è perfetta. Abbiamo il campo visivo perfetto. Ed è una cosa pazzesca. In quanto con lo schermino sì che è piccolo, ma possiamo fare di tutto. Poi ora con questi nuovi aggiornamenti, con la versione Pro, potremmo comandarlo senza problemi da questo schermino e così via. Per cui DJI si sta proprio imponendo. Si sta aprendo fette di mercato nuove, come può essere questo. Perché nessuno l'aveva inventato ancora. E in più si vuol prendere la grande fetta delle action cam, vere e proprie action cam. Vedremo se avrà la stabilizzazione, perché ormai è di dovere avere la stabilizzazione nelle action cam. Come nella GoPro Hero 7, la grande innovazione, che cos'è? È la stabilizzazione Super Smoothish. Se il nuovo prodotto di DJI avesse la stabilizzazione ancora migliorata della GoPro, l'impermeabilità senza case, secondo me ce l'ha. Perché con l'immagine così di covertina, con questa ragazza sotto il mare, così penso che sia proprio il suo habitat naturale sotto il mare, resisterà magari, spero, anche di più di 10 metri come la GoPro. Un'altra cosa che sicuramente inciderà tantissimo nel fattore successo o insuccesso di questa action cam di DJI, sicuramente è il fattore prezzo. La GoPro Hero 7, che sicuramente sarà il rivale numero uno, perché è l'action cam di eccellenza, anche se ce ne sono altri cinesi, però secondo me la GoPro Hero 7 rimane al primo posto per ora, per ora. La troviamo sui 400-380 euro. Successivamente, questa nuova action cam di DJI, che prezzo avrà? Non lo so. Se fosse leggermente inferiore alla GoPro Hero 7, beh, il gioco è fatto. Ciao ciao GoPro, poi vedremo. Poi vedremo nei prossimi video, quando la testeremo. Altre cose, anche se il sensore riuscisse a portarlo leggermente più grosso di questi sensori qua, che troviamo sull'Air, sul DJI Small Pocket, beh, allora aumenterà ancora di più la qualità, ancora di più i colori, gamma dinamica, potremo produrre meglio le nostre immagini, i nostri video. Staremo a vedere cosa tirerà fuori e cosa presenterà tra 6 giorni, 16 ore, 19 minuti e 37 secondi. DJI, non vedo davvero l'ora. Se volete comprare subito questo prodotto, poi io farò un video subito dopo la conferenza. Lo comprerò per testarlo, naturalmente, non posso farne a meno. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella. Iscrivetevi anche al mio canale Telegram, dove pubblico giornalmente le offerte migliori, Banggood, Amazon, prodotti tecnologici e naturalmente seguimi su Instagram per sapere tutte le novità in tempo reale. Comunque, un action cam, l'aspettavo, perché arriva l'estate e cosa c'è di meglio? Ciao, da Alessandro. Ciao, da Alessandro.